SIGLA Signore e signori, se mi definisco un cercatore di petrolio, sarete d'accordo con me. Ho attraversato il nostro Stato per venire qui a esplorare il territorio. Sono un padre di famiglia. Lui è mio figlio e mio socio, H.W. Plainview. È l'impresa familiare, voi due. Un pochino in ritardo, voi due. Che avete trovato? Ho trovato varie interessanti possibilità. Ho molti pozzi che producono migliaia di barili al giorno. Posso garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola. Cos'è questo? Perché non è mio questo? Perché non è mio questo? Sono pronto a darvi 3.700 dollari. No. C'è il petrolio qui, varrà pure qualcosa. Tu che vorresti, Lai? Mio figlio è un guaritore e un veicolo dello Spirito Santo. Ha una chiesa. Oh. Tu verrai rimbuttato per sempre nella perdizione! Mettiamo in opera una tubazione e facciamo un accordo con la Union Oil. Così facciamo i soldi. I soldi veri, quelli che darebbero un profitto. Oddio! C'è un intero oceano di petrolio sotto i nostri piedi. Nessuno può rimarci tranne me. Faremo di voi un milionario. Quando ci verrà i nostri soldi, Daniel? Io guardo le persone e non ci trovo niente di attraente. Ti ho umiliato e ti ho battuto. Io vedo il peggio nelle persone. C'è qui un peccatore! Fatte le demone! Io sento la competizione in me. Io non voglio che altri riescano. Individi e Blu-ray Individi e Blu-ray Individi e Blu-ray